Keita Baldè potrebbe essere un nuovo giocatore dell'Inter Praticamente Pastorello e suo agente ha confermato che l'Inter è quasi in chiusura per Keita Baldè Praticamente serve un ritorno perchè Keita Baldè è stato all'Inter e secondo me non ha fatto neanche tanto malo come dicono certi tipi dell'Inter come quarta punta secondo me sarebbe un buon acquisto solo calcolando che non ci sono soldi e calcolando che l'Inter non ha venuto nessuno Keita Baldè ha prenduto il posto in piena monti come quarta punta su me e ora lo che colla come ho detto poi in 3 anni su me quindi benvenuto Keita Baldè se arriva perché è un buon acquisto poi un'altra cosa importante, l'Isa Aguirre ha già allenato quindi lo conosce molto bene e una volta che pensate di Keita Baldè a voi piace, a me piace o non piace e dobbiamo proteggerci di questo acquisto ok? però a fin di conti dico sì